Eder. Mech. Pallister. I carabinieri, giunti prontamente sul luogo, hanno rinvenuto i corpi dei due anziani coniugi, entrambi colpiti da ferite d'arma da fuoco. Accanto a loro, l'arma del delitto, una pistola detenuta legalmente dall'uomo per uso sportivo. Le prime indagini suggeriscono uno scenario tanto tragico quanto complesso. Pare che il marito, un uomo di 90 anni, abbia rivolto l'arma contro la moglie, uccidendola, prima di togliersi la vita. Questa ipotesi è supportata dalla posizione dei corpi e dall'arma trovata sul luogo. Tuttavia, le autorità procedono con cautela, analizzando ogni dettaglio per confermare le dinamiche esatte dell'accaduto. La notizia ha colpito duramente la comunità di Tarzo. Gli anziani coniugi erano persone benvolute e rispettate, e il loro tragico destino ha lasciato un vuoto profondo. I vicini ricordano la coppia come un esempio di amore e dedizione reciproca, e nulla avrebbe mai fatto presagire un epilogo così drammatico. Mentre le autorità lavorano incessantemente per chiarire i dettagli di questo tragico evento, la comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime. Offrendo supporto e solidarietà in un momento così difficile. Gli inquirenti stanno esaminando vari aspetti, compreso lo stato psicologico del marito, per comprendere cosa possa aver spinto a un gesto tanto estremo. Questo caso solleva interrogativi profondi su temi delicati come la salute mentale e il possesso di armi da fuoco, specialmente tra la popolazione anziana. È una tragedia che invita a riflettere sulla necessità di maggiore supporto e attenzione per gli anziani che vivono situazioni di stress o isolamento. In attesa che le indagini forniscano risposte definitive, resta il dolore di una comunità che ha perso due dei suoi membri più cari. Un episodio che sottolinea, ancora una volta, l'importanza di vigilare e sostenere chi ci circonda, per prevenire tragedie che lasciano cicatrici indelebili nel tessuto sociale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!